Ad animare la ventesima edizione della festa dell'Avis de Canicossa, Tagnato Disco con la sua orchestra. Esatto. È una prima tappa qui nel Mantovano o è già stata... Beh, noi siamo già stati parecchie volte appunto nel Mantovano, però è la prima volta qui a Canicossa. Uno spettacolo che dovrà coinvolgere tutte le generazioni che amano la musica. Tutte, tutte. Musica a 360 gradi con la nostra orchestra. Una musica che è anche ballo, oltre che ascolto. Certo, certo. Anzi, fondamentalmente e principalmente proprio ballo. Ecco, la scelta della scaletta avviene casualmente o avete già un cliché? No, diciamo che c'è già una base da seguire, poi in base alla pista. Naturalmente, come si suol dire...